Ciao a tutti, vediamo in questo video 12 abitudini scioccanti delle persone di successo. In questo video ti voglio spiegare quali sono 12 abitudini che non avresti mai presi in considerazione delle persone di successo e quindi diciamo che forse vale la pena cercare di prendere queste abitudini, insomma almeno qualcuna, per vedere di poter emulare diciamo o raggiungere il successo nell'ambito della vita che ci interessa. Prima però iscriviti al canale, attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco e ti ricordo che se hai la necessità di ricevere delle risposte specifiche le tue domande precise, potrai abbonarti, abbonandoti potrai partecipare a delle live mirate dove solo tu abbonato potrai fare delle domande specifiche precise e otterrai da me delle risposte in diretta. E adesso veniamo al tema, 12 abitudini scioccanti delle persone di successo. Scioccanti nel senso che sono abitudini che spesso le persone non prendono in considerazione. La prima è che si alzano presto al mattino. C'è un detto popolare che afferma che il mattino allora imbocca, ma in realtà è proprio così, cioè le persone di successo non sono dormiglione, non sono persone che si alzano tardi, sono persone che hanno una schedulazione della giornata già dal mattino presto, tendono ad alzarsi presto. Insomma, chi dorme, ci sono molte le cose, no? Il mattino allora imbocca, chi dorme non piglia pesci. Insomma, questo indica che, perché la saggezza popolare non è da trascurare, quindi è importante capire che bisogna seguirla, la saggezza popolare. Questo è un punto importante. Poi, seconda abitudine delle persone di successo è trattare il fallimento come un insegnamento, cioè non si abbattono perché hanno sbagliato qualcosa, perché qualcosa non ha funzionato. Assolutamente no. Le persone di successo non si abbattono, ma trattano come se fosse un insegnamento. E in effetti così è. Se noi impariamo dagli errori che facciamo e non li commettiamo più, abbiamo raggiunto un insegnamento. Certo, poi affinandoci ancora di più potremo imparare dagli errori che fanno gli altri. Questa è ancora un'altra cosa. Però, già imparare dai propri errori è qualcosa di importante. Le persone di successo non sono persone che fanno parte della media, cioè evitano la conformità, evitano di essere dei medium man, cercano di essere originali, insomma. Le persone di successo hanno sempre qualche tratto originale rispetto agli altri. Quarto punto, è interessante che leggono molto. Leggere comunque trasforma il nostro mondo. Leggere trasforma la nostra vita. Quindi leggere è molto importante. E le persone di successo dedicano molto tempo alla lettura. Quinto punto, quinta caratteristica delle persone di successo, quinta abitudine delle persone di successo, è la generosità. Non sono tirchi, non sono persone che tendono ad essere generosi con gli altri. Perché, come diceva anche San Francesco, è dando che si riceve. In molte tradizioni antiche e nei periodi di carestia che si facevano maggiore offerte agli dèi. Perché è come dimostrare l'universo che noi abbiamo. Questo è un segnale molto importante. Dimostrare l'universo che sia in abbondanza, come dire, ci permette di ottenere dei risultati positivi. Il sesto punto è, diciamo, la predisposizione o la capacità di resilienza. Cioè, di resistere agli uti della vita e di essere disposti al sacrificio. Questa è un'altra abitudine. L'abitudine al sacrificio, l'abitudine allo sforzo. Cioè, sperare di ottenere dei risultati semplicemente sulla fortuna. Beh, certo, la fortuna del principiante, la fortuna ci può essere, però poi alla lunga ti darà delle batoste. Invece, soltanto che è determinato, soltanto che è disposto a sacrificare delle cose, il suo tempo perlomeno riuscirà ad ottenere il successo voluto. Settima abitudine del bisogno di successo è scrivere. Soprattutto una scrittura che potremmo definire creativa. Comunque, la capacità di scrivere è una delle abitudini delle persone di successo. L'ottava abitudine è evitare di procrastinare. Cioè, le persone di successo fanno le cose nel momento giusto, nel tempo giusto. Non fanno passare del tempo inutilmente, non procrastinano. Fanno le cose nel tempo debito, diciamo. Abitudine numero nove è quella legata all'automiglioramento. Cioè, cercano sempre di migliorare se stessi. Sono sempre in un programma di miglioramento. Quindi, potremmo dire miglioramento continuo. Il miglioramento continuo, l'imparare è un'abitudine importante delle persone di successo. E il decima, la decima abitudine è quella di interagire con gli altri, di creare interdipendenza, di creare network. Interagire con altre persone, perché l'interazione con altre persone dà sicuramente la possibilità di fare nuove conoscenze e queste di portare nuove possibilità all'interno della propria vita. Undicesima abitudine delle persone di successo è l'esercizio fisico. Sono in forma fisicamente, si allenano. L'allenamento è importante. Anche qua ci sono i detti popolari. Mense è sana, incorpore è sano. Comunque, al di là di tutto, mantenersi in forma da una chance in più, diciamo, nell'avere successo nella vita. E poi, per finire, arriviamo alla dodicesima abitudine. Prima però ti ricordo di iscriverti al canale attivando la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E se hai bisogno di risposte precise alle tue domande puoi abbonarti al canale, che ha una quota simbolica, riceverai in diretta delle risposte alle tue domande che solo tu, abbonato, potrai fare. E veniamo alla dodicesima abitudine, che è quella di meditare. La meditazione. Rilassare il proprio corpo, rilassare la propria mente, ma soprattutto familiarizzarsi con ciò che vogliamo raggiungere. Questa è un'altra abitudine fondamentale delle persone di successo. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!